Un quarantenne non proprio in splendida forma, il nostro sistema sanitario nazionale squattrinato, criticato per lentezza nelle prestazioni, mani bucate, splendido quando va al nord ma con parecchi acciacchi se scende al sud, un po' è vero ma a volergli fare la diagnosi è un miracolo che ancora riesca a garantire prestazioni che nel resto del mondo se le sognano. I punti di forza sono sicuramente il buon uso delle risorse, noi siamo parchi, abbiamo pochi letti, abbiamo una capacità di fare dei ricoveri appropriati sempre e abbiamo lavorato molto sugli esiti e risultati di qualità. I nostri punti di debolezza sono quelli legati più al territorio, ormai con la cronicità c'è bisogno di percorsi di presa in carico dei pazienti trasversali e liste d'attesa che ovviamente a volte gettano un po' di reputazione negativa sul nostro sistema. Il 70% dei nostri ospedali risale all'inizio del secolo scorso e in moltissimi si vede. Chi ci entra si lascia impressionare dai muri scrostati, dentro però ci sono medici, infermieri, professionisti tra i più preparati in Europa. Però sono pochi, entro 5 anni andranno in pensione 15.000 medici, mancano 32.000 infermieri ed hanno un contratto scaduto da 10 anni. Presidente, anche questa è la sanità, l'innovazione tecnologica, la telemedicina. Assolutamente sì, che va incontro ai due grandi problemi dell'Italia, come crescere e come creare giustizia. E nella sanità e la sanità legata all'innovazione sono quegli elementi che ci permettono, se gestiti bene, di raggiungere questi due obiettivi. Far crescere la quantità di ricchezza e farla crescere allargando la sfera della giustizia sociale. Di tutto questo si parla a Roma nei due giorni della convention della Fiaso, che raggruppa il 70% delle ASL e gli ospedali italiani. E non è soltanto una celebrazione, ma il contributo di idee su come mantenerlo in vita, il nostro sistema sanitario nazionale.